salve ragazzi e ragazze perché so che siete sia ragazzi che ragazze allora per ottenere una combustione del genere e dentro ho messo c'è del legno di quercia quindi molto 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 come potere calorifero molto alto e dura sempre di più e cosa ho fatto ho messo sul margine della stufa per aumentare il perché ho visto anche dai vari esperimenti che ho fatto e le efficientamente energetico proprio della stufa allora vedete questa carbonella che si è formata sotto così legno che metto sopra ancora viene pirolizzato e da un una combustione abbastanza lenta ho messo questi pietrini qui ora metto il flash vedete come sono i legni sul margine cioè da questa parte e da questa parte qualche pietrino di questi qua quelli del che si mettono sono pietre laviche quelle da 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 mettere nella carbonella insieme alla carbonella che sono le classiche pietre basaltiche e le ho messe da una parte dall'altra e qualcuna sparsa sul sulla griglia e vedo che si è alzato parecchio cioè sotto forma aiuta molto questa carbonella che si è formata sotto vedete e vedo che fa molto caldo legno entra viene pirolizzato entra proprio bene bene vedete che brucia i gas e così funziona bene anche il giro fumi la decomposizione della legna e lenta con inizia piano piano ora ve lo faccio vedere anche col flash vedete come viene pirolizzato e sotto sotto ci sono sti pietrini quindi non so fate una prova anche voi io li ho trovati in ferramenta sono dentro una scatola sono pietre a ora si sono scaldate qui le ho messe qua quindi vedete voi io vedo che è una combustione valida e che fu solo qualcuna e non mettete tanto perché queste diventano cioè proprio carbonella rovente quindi non vorrei che mettendo legna in più questa io ne avrò messe 3 da una parte piccoline e 2 3 da una parte 3 dall'altra e 2 un po più grossetine sotto e vedo che molto valido come come idea molto valida sì sì io vi saluto e un abbraccione